Buongiorno amici, riprese oggi che vi arrivano dalla parte finale della salita di Tempura Sant'Antonio, il meteo che ci ha contesso la pedalata oggi, è una giornata molto ventosa. Andiamo scalendo 32-28. Con molta fatica. Non è ormai a buon punto. Non è ormai. Non è ormai a buon punto. Non è ormai a buon punto. Non è ormai a buon punto. Sao? Non è ormai. Non è ormai a buon punto. Per te? Grazie a tutti